Non so voi, ma quando io mi trovo in macchina nel sedile del passeggero, soprattutto se stiamo percorrendo una strada extraurbana, ancora di più se è di notte, mi vedo costretta a rimanere sveglia con gli occhi puntati verso la strada per assicurarmi che non succeda niente. E' una cosa incredibilmente irrazionale che non ha niente a che vedere con le capacità di guida della persona che sta guidando. La notte scorsa, ad esempio, tornavamo a Cagliari dopo una gita nel nord della Sardegna, quindi quasi 300 chilometri. E mio merito è un provetto guidatore, ha fatto un sacco di rally sia come driver che come navigatore. Adesso non corri più nei rally, dico io per fortuna, però fa il training alle persone che guidano i mezzi di emergenza. Quindi non c'è nessun motivo al mondo perché io debba rimanere con gli occhi puntati sulla strada per assicurarmi che non succeda niente. E poi è una cosa che faccio sempre, anche quando mi si chiudono gli occhi dal sonno, mi si piega la testa, però c'è questa cosa irrazionale che vuole far sì che nel momento in cui io chiudo gli occhi, boom, succede un incidente. Non so se succede mai anche a voi, non so se è una cosa che riguarda solo me oppure se anche a voi succede di non riuscire a rilassarvi in questi tragitti notturni in macchina. Devo dire poi che per quanto riguarda l'andare in auto di notte, questo è un altro grosso problema che io ho perché da astigmatica vedo malissimo la notte, anche quando ho gli occhiali che comunque correggono questo difetto alla vista, però ho veramente grosse difficoltà a, non so se orientarmi, a guardare avanti o forse anche una cosa un po' psicologica perché in generale non mi piace tantissimo andare nelle strade extraurbane la notte. Comunque, ieri notte abbiamo fatto questo lungo viaggio, molto bello perché c'era poco traffico, perché a nessuno fa piacere guidare la notte, è una domenica alle dieci tardi quando c'è buio. Quindi le strade erano completamente sgombre, si vedeva ogni tanto qualche auto che o ci superava o si lasciava superare oppure veniva nella corsia opposta e c'era una bellissima luna che stranamente, quando abbiamo iniziato il viaggio cominciato a far buio, era molto in alto e poi quando siamo praticamente arrivati a casa era molto in basso, quindi questa cosa qua ancora non l'ho capita perché pensavo che la luna la notte sorgesse, però vabbè, mi informo. Grazie. Grazie.